Piacere. Grace Miller. Aspetta un secondo, torno subito. Oh, ok. Già, sapevo che eri tu. Sì. Ti vedo ogni volta che prendo i tuoi libri. Se hai una penna, ti farei volentieri un autografo. Certo, perché si fa così. Si fa così, ma forse dovrei essere io a chiedere un autografo a te, Detective Ed Jennings, squadra omicidi di Washington. Mi stai stalkerando? No, ti ho cercato su Google. Il Detective Ed Jennings che ha risolto un vecchio caso arrestando l'ex marito della donna assassinata. Wow, congratulazioni. Fa parte del lavoro. Ah, prendite nel merito. Te lo sei guadagnato. Ho guadagnato una settimana di ferie. Un'intera settimana? Già, già. Io pensavo di imparare a fare gli angoli a quarta buono. Wow. E poi potremmo risolvere un omicidio.